E' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini la proroga per sei mesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Camastra. La decisione ha tenuto conto di approfonditi accertamenti da cui sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa. La nota è stata trasmessa da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. La delibera dello scioglimento del Consiglio Comunale di Camastra risale ad aprile del 2018 su decisione del Consiglio dei Ministri su proposta dell'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti. La città si stava preparando alle elezioni del giugno 2018 quando mancavano infatti quasi due mesi alla scadenza del mandato elettorale del sindaco Angelo Cascià eletto a capo di una lista civica nel 2013. Ma il Consiglio dei Ministri in carica, a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ne ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale per Mafia. La motivazione era legata alle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per Mafia ha comportato l'immediata decadenza degli organi democraticamente eletti, Consiglio, Giunta e Sindaco, e la sostituzione con i commissari straordinari per una durata di 18 mesi che si possono estendere fino a 36 mesi e adesso si rinnova fino ad aprile 2020 il mandato dei commissari. Al comune di Camastra si era insediata la commissione di accesso agli atti composta dal vice prefetto Elisa Vaccaro, dal vice capo della squadra mobile Vincenzo Di Piazza e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza il colonnello Fabio Fuzzava per accertare se vi siano stati eventuali condizionamenti o infiltrazioni nella macchina amministrativa. La commissione dunque, ultimando il suo lavoro di verifica, aveva trasmesso alla prefettura di Agrigento. Secondo quanto previsto dalla legge, la relazione che poi è stata inviata al Viminale e sulla base della relazione il ministro dell'interno ha deciso di proporre al Consiglio dei Ministri lo scioglimento per Mafia dell'ente. Allo scioglimento del Consiglio Comunale si è arrivati dopo l'operazione Vultur della squadra mobile della DDA di Palermo che portò a 5 provvedimenti restrittivi.